Nokia C205 è un telefono caratterizzato da un design giovane e funzionale. Il corpo è leggero e compatto grazie soprattutto alla scelta dell'apertura scorrevole che nasconde il tastierino. A livello hardware dispone di un display TFT da 2 pollici con risoluzione di 320x240 pixel a cui si aggiungono una fotocamera da 0,3 megapixel, il modulo bluetooth, la radio FM e lo slot microSD per l'espansione della memoria interna. Dedicato a chi ama comunicare questo cellulare permette di accedere rapidamente ai social network più comuni come Facebook e Twitter per essere sempre aggiornati sulle attività dei propri amici. Il modem GPRS ed Edge integrato consente una connessione efficiente. Inoltre grazie al browser preinstallato sarà possibile navigare su internet con tutta semplicità. Nokia C205 è un telefono semplice ed intuitivo, ideale per tutti coloro che cercano un cellulare facile da utilizzare ma al contempo efficiente.